È un crollo davvero inatteso quello di Arezzo nella classifica della qualità della vita stilata ogni anno dal quotidiano Italia Oggi. Arezzo infatti perde 30 posizioni sprofondando al cinquantesimo posto. Nel 2018 Arezzo infatti era ventesima. In Toscana Arezzo si trova in sesta posizione dopo Firenze, Pisa, Siena, Prato e Lucca. La classifica retina piange soprattutto per quanto riguarda l'ambiente. Gli indicatori definiscono la qualità ambientale scarsa. Arezzo si trova tra le 27 province italiane sotto la sufficienza. Torna a sorridere Arezzo sul fronte della sicurezza. Secondo Italia Oggi infatti è la provincia più sicura di tutta la regione. 45esimo posto della classifica regionale. Male invece nel settore dell'istruzione e della formazione. In questa speciale classifica Arezzo si trova agli ultimi posti della regione Toscana insieme a Prato e Livorno. Non bene neanche il rapporto tra decessi, nascite, immigrati e fuga di cervelli. Qui Arezzo è 71esima. Bocciatura anche sul fronte della salute. Gli indicatori anche qui parlano di scarsità. Con il settantesimo posto a livello generale. Buono risultato sul fronte del tempo libero. Accettabili invece gli indicatori che misurano il tenore di vita.